Come vi butta? Dai, dai ragazzi che è venerdì un ultimo piccolo sforzo e poi sarà weekend e potrete rilassarvi in compagnia della Serie A, oh finalmente no, primo weekend senza Serie A sarà terribilmente dura, poi è vero che inizieranno i mondiali, però io ancora in questo momento ansia da mondiale, voglia di mondiale, ne sto avvertendo veramente poca, non so se voi siete già nel mood nel caso, Beh a TV, ieri ne parlavo con Seekwolf e a proposito vi invito ad andare a vedere l'ultimo video che abbiamo caricato insieme qua sul mio canale, ne è uscito anche uno sul su dove parliamo di Cristiano Ronaldo, lui è molto carico, infatti gli dicevo io siamo tutti in video tantissimo perché questo mondiale ancora non mi dà niente, poi tanti mi state chiedendo anche, le rispondo qua molto veloce, chi tiferò per i mondiali ma non tiferò nessuno, nel vero senso della parola perché io tifo Italia, poi posso avere delle preferenze, Ho una sola preferenza per il momento e cioè mi piacerebbe una finale tra Brasile e Argentina, anzi scusate tra Portogallo e Argentina, tra Brasile e Argentina è la finale che sogno tutti gli anni ma quest'anno sogno Portogallo e Argentina, per un motivo mi piacerebbe vedere Ronaldo contro Messi, poi se è Brasile e Argentina tanto meglio perché penso che possa essere una delle finali più belle della storia, ma Argentina contro Portogallo probabilmente sarebbe la finale, la partita di calcio più vista della storia, Ronaldo contro Messi che all'ultimo mondiale si sfidano per conquistare la coppa e uno dei due sicuramente se la porta a casa, questa è la finale che sogno con tutto il cuore, poi ribadisco, Brasile e Argentina va bene lo stesso, però Portogallo e Argentina ragazzi dovrebbe essere qualcosa di clamoroso. Allora domani esce sul canale di Fede Marconi appunto la finale della YouTuber League alle 12 sul suo canale, poi qua uscirà un altro video in cui racconterò la finale perché sono successe alcune cose un po' particolari che mi riguardano in prima persona e quindi voglio cercare un attimo di mettere a posto anche questa cosa qui, quindi vi racconterò la mia finale di YouTuber League, quella che è stata l'emozione, la sensazione che ho provato, positiva o negativa, voi vedrete purtroppo domani e niente dai, iniziamo a parlare che due minuti di introduzione li abbiamo fatti e scusate, sapete che mi piace chiacchierare, però oggi vorrei concentrarmi un attimino sulle richieste di Rabiot perché sapete che era girata, era circolata l'idea di un Rabiot che vuole un rinnovo a 10 milioni di euro all'anno per la Juventus, per rimanere alla Juventus, ok? Partendo dal presupposto che a queste condizioni neanche per sbaglio, quindi secco, questa è la risposta che vedo, neanche per sbaglio, neanche se dovessimo scivolare su una buccia di banana e cadendo firmare il contratto che da 10 milioni di euro all'anno a Rabiot, no, non è possibile, non è possibile che la Juventus possa scendere a questi prezzi, anche perché la Juventus si autoindotta un tetto di mercato, un tetto massimo di ingaggio che dovrebbe essere intorno ai 7 barra 8 milioni di euro, con gli 8 in teoria ci si arriva se si parla di decreto crescita per fare in modo che la Juventus paghi meno, comunque di netto, anzi in realtà sì, vabbè, al calciatore massimo vengono riconosciuti 8 milioni di euro, che poi sull'ordo la Juventus è un altro discorso, però questo dovrebbe essere ideologicamente un tetto che si autoimposta la Juventus per cercare di non ritrovarsi nelle situazioni complicate in cui cerchi di cedere un giocatore ma non riesci effettivamente a vendolo perché ha un ingaggio troppo elevato. Ricorderete che quest'estate Rabiot era vicino al Manchester United, poi è rimasto, è diventato perno della squadra, quindi quando l'altro giorno parlavamo, tra virgolette, di fortuna per l'infortunio di McKennie, perché ha favorito l'ingresso di Fagioli, che in questo momento sta rendendo tanto, anche in questo caso parlo di fortuna, perché quest'estate, vado a spanne, ma un 98%, lascio fuori un 2% di tifosi della Juventus, era lì che festeggiava per i 20 milioni di euro in arrivo per Rabiot, che è arrivato a parametro zero, non l'aveva incantato fino adesso, eppure ad oggi abbiamo fatto ieri la tier list e l'ho messo tra i top, è uno dei giocatori che sta performando meglio nella Juventus in assoluto, ha già quota 5 gol, quindi diciamo che è incredibile, incredibile pensare a questa cosa qui, quindi Rabiot assolutamente ad oggi è un trascinatore della Juventus, però quest'estate era praticamente venduto, rimaneva soltanto l'idea di fargli accettare l'ingaggio proposto da United, ma anche lì non si era trovata la quadra con la mamma gente che chiedeva cifre fuori mercato, infatti mi fa ridere sentire tanti che mi dicono io Rabiot lo rinnoverei al ribasso, lui sta chiedendo un rinnovo al rialzo rispetto ai 7 e mezzo che percepisce attualmente, quindi anch'io, io storicamente dal primo anno di Rabiot vi dico io qualcosina, ma proprio qualcosina, ce lo vedo, non mi sembra un giocatore così scarso, come riserva nella Juve ci può stare, ma all'epoca parlavamo di un'altra Juve, oggi è un titolare, addirittura è un trascinatore, perché la Juve si è abbassata qualitativamente negli anni, ma a quelle cifre no, a quelle cifre assolutamente no, quindi io dal primo anno di Rabiot vi dico che è un giocatore che comunque terrene la rosa della Juve perché è utile, all'epoca come riserva, oggi come titolare ci dà l'idea di quanto ovviamente siamo andati verso il basso, ma non ha quelle cifre, quindi io sono il primo sostenitore di Rabiot rimane ma al ribasso, il problema è che qua sta chiedendo uno stipendio maggiore rispetto a quello che già percepisce e che già consideriamo alto, quindi è impossibile secondo me parlare di quella roba lì, perché lui si sente un calciatore importante, adesso è, passatemi i termini, perno del centrocampo della Francia, dato che Kanté e Pogba non sono convocati per il Mondiale, quindi vediamo un attimo che cosa succede, vediamo anche se quando tornerà Pogba Rabiot farà un passo indietro, dato che la posizione è circa la stessa occupata dai due giocatori francesi, sono anche curioso di capire Allegri come riuscirà a gestire questa cosa qui con il ritorno di Pogba, ma di questo parleremo un po' più avanti, magari già quando inizieranno ad esserci le amichevoli della Juventus, si dovrebbe fare un amichevole, sentivo ieri da Romeo Agresti contro l'Arsenal, contro il Barcellona nella terza squadra, dove magari Pogba potrà scendere in campo per iniziare a mettere un po' di minuti nelle gambe e vedremo se Rabiot sarà già tornato dalla spedizione mondiale, potrà aggregarsi pure lui e inizieremo a vedere un attimo un dualismo nelle posizioni. E dato che è ritenuta eccessivamente alta, è come dare torto, questa cifra è richiesta da Rabiot, e ora Juventus sta seriamente pensando di non rinnovare il contratto per forza di cose, farlo partire come free agent, a meno che non vada al Chelsea già in questa sessione invernale, perché Potter, il tecnico del Chelsea, lo avrebbe richiesto e la Juventus di fronte a un giocatore che è in scadenza tra sei mesi, con un contratto in scadenza oneroso, che a ribasso non vuole rinnovare e che vuole una cifra maggiore, avrebbe assolutamente senso farlo partire nonostante questo momento super top di Rabiot a livello economico, finanziario, logico. Poi ovviamente a livello sportivo, vedendo quello che sta facendo Rabiot quest'anno, ci penserei due volte. Eppure, eppure sono qui a dirvi che avrebbe senso perché tra sei mesi lo perdi a zero. Però si sta vociferando, no? Esce Rabiot e quindi magari la Juve già interessata a proporre alla Lasti un'offerta da 50 milioni di euro per Milinkovic-Savic, che anche lì c'è un discorso rinnovo in ballo che non si capisce. E l'ho detto già l'altro giorno, ha detto sì, gli applausi della Juventus per l'uscita dal campo di Savic, c'è stile Ronaldo, gol in rovesciata, no? Però io ne voglio 100. Allora, intendiamoci. Io credo che Milinkovic-Savic complessivamente sia un giocatore migliore di Rabiot, ma che Rabiot abbia più esperienza a livello internazionale dove si giocano partite più difficili. Quindi, a mia preferenza, Savic come tipologia di giocatore, ma per quella che è stata la conoscenza del calcio mondiale ad alti livelli, Rabiot è un passo avanti rispetto a Milinkovic-Savic. Poi sceglierei sempre il serbo della Lazio, sempre. Però sono due giocatori anche con caratteristiche diverse, no? Curriculum diversi e caratteristiche diverse. Stipendi diversi, perché di Rabiot stiamo parlando un rinnovo al rialzo, Milinkovic-Savic invece con 4-5 milioni di euro, probabilmente 5-6, forse anche lo sistemi, quindi sicuramente vai anche ad abbassare il montaingaggio attuale. Il problema, ragazzi, è che stiamo parlando due giocatori classe 1995, come parlavamo ieri per Carsdorp, e io vi dico, oggi non ha senso fare investimenti grossi, importanti per calciatori di quelle annate lì, prossimi ai 30, perché l'anno prossimo 95 in questa stagione vanno a compiere 28 anni. Io non spenderai mai oggi 60-70 milioni di euro per il cartilone di Milinkovic-Savic, e io sono innamoratissimo calcisticamente di Milinkovic-Savic, ma per quella che è la situazione della Juventus, per i discorsi che si stanno facendo, anche per l'obiettivo di autosostenibilità imposto dal CDA della Juventus, non più tardi di due mesi fa, anzi forse un mese e mezzo fa, la Juventus questi colpi non li può più fare. Capisco i Pogba, capisco i Di Maria, che sono occasioni a parametro zero, giocatori importanti con Palmares. Io ieri ho bocciato Di Maria, perché secondo me fino adesso non mi ha fatto la stagione, ma non significa che è una bocciatura definitiva, però Di Maria mi aspettavo sicuramente di più in questa prima parte di stagione. Aspetterei fine anno per valutare l'investimento Di Maria, dato che è un investimento annuale, investimento tra virgolette, è un colpo annuale, dato che era un anno soltanto di contratto, invece per Pogba io leggo già persone che l'hanno bocciato totalmente, Pogba ragazzi un attimino, perché a me è dato molto fastidio il comportamento di Pogba, molto, e non riesco nemmeno a essere triste del fatto che non vada a giocare al Mondiale, perché io poi certe cose me le segno, come non riesco a essere triste di vedere Cristiano Ronaldo che non si trova bene al Manchester, perché io certe cose me le segno, pure Ronaldo e Pogba vogliono un grandissimo bene, un grandissimo bene per quello che hanno fatto con la maglia della Juventus. Però poi certe cose se vanno a danneggiare tra virgolette la Juventus, fatte da dei tesserati della Juventus, me le segno e umanamente, sono un tifoso ma umanamente ho dei sentimenti anche di rivalsa, quindi come spero che lo stesso De Ligt possa non andare bene col Bayern quest'anno, anche se Bayern come al solito è una squadra fantastica. Vediamo dai, comunque sono i miei ragionamenti che mi porto dietro, così come auguro tutto il bene del mondo invece ad Alvaro Morata, per dire, o a Paolo Di Bala, sono situazioni completamente differenti. Però, però, non ha senso oggi, no? Che la Juventus mi vada a fare questo investimento così grosso su Sergei Milinkovic, e sono innamoratissimo del calciatore, sono convinto che possa fare molto bene con la casacca della Juventus, si troverebbe bene anche a livello spogliatoio con Vlaovic e Kostic, però io oggi sono per il non rinnovo di Rabiot e per il non acquisto di Savic, e lo so che mi prenderete per matto come sono per il non riscatto di Paredes in questo momento, e poi se Paredes riuscirà a stupirmi andando avanti ben venga, però io guardo, Fagioli, Miretti, Locatelli, lo stesso Rovella, che è nostro, è fuori, sta facendo bene, tra l'altro sono quattro giocatori italiani, il che è clamoroso che la Juventus abbia quattro giocatori italiani al centrocampo di questo livello di prospettiva, chi un po' più vecchio, chi un po' più giovane, è tanta tanta roba, tanta tanta roba, più lo stesso Pogba, che comunque è stato preso anche per cercare di ridare una dimensione palmarès differente alla squadra, e per avere una figura nello spogliatoio che ha già vissuto un ciclo Juve, sono già cinque giocatori, così a centrocampo, senza considerare Paredes, McKennie, appunto Rabiot, lo stesso Zaccaria che potrebbe tornare, lo stesso Artur che potrebbe tornare, ma questi sono giocatori che la Juventus secondo me cercherà di tagliare in qualche modo, quei quattro giocatori italiani, più Pogba, più magari un altro investimento che si potrà fare un po' più giovane, o comunque se Milinkovic-Savic viene via ad un prezzo di favore, che dici un giocatore di quella caratura tecnica, non internazionale, tecnica, non te lo puoi far scappare a questo prezzo, allora ci sta. Se devo andare a sborsare 50-60 milioni di euro per Milinkovic-Savic, vi dico di no, come vi dico di no, al rinnovo di Rabiot, al rialzo, perché non ha assolutamente senso, per quanto mi riguarda. Poi queste sono mie analisi, mie interpretazioni di diverse situazioni, mie congetture, vi invito a farmi sapere anche un po' come la pensate voi qui sotto nei commenti, ma questa idea di Juventus, detta dalla Juventus stessa, di cercare di autocrearsi, di autogenerarsi, di autosostenersi, tramite gli investimenti, tramite la next gen, è bellissima. Infatti ieri qualcuno diceva, ma invece che prendere Karzorp dalla Roma, non possiamo valorizzare Barbieri della primavera dell'Under, ma magari, ma benvenga, se si dimostra all'altezza, se lo reputano all'altezza, ma benvenga. Io in questa stagione, in cui il fallimento Champions mi rimane lì ragazzi, il fallimento da Champions mi rimane lì, e non mi va via, e non potrà andarmi via. Più ragazzi vengano fuori dal vivaio, più ragazzi fanno minuti in Serie A, o in Europa League, meglio è, perché qualcosa dobbiamo portarci a casa, magari non vinceremo neppure la Coppa Italia, magari non vinceremo neppure l'Europa League, oggi parlare di scudetto ragazzi, io vedo tanti già proiettati nell'iperuranio, io, come dicevo anche nei video analisi di questa settimana, poi ne faremo altri, in queste prossime settimane che verranno, ci vado con i piedi di piombo, perché vi invito a ragionare, a fare vostra questa frase, ve la voglio passare, ma voglio che diventi anche vostra, voglio che diventi nostra questa frase, non abbiamo ancora fatto nulla, non abbiamo vinto nulla, siamo al terzo posto in Serie A, che è una posizione che per la Juventus è mediocre, vi invito a ricordarvi, ricordatevi l'anno di Pirlo, quando eravamo terzi, quarti, quinti, a un certo punto che cosa pensavamo, non è una roba da Juve, come lo pensavamo l'anno scorso, adesso siamo contenti, chiede giusto essere contenti, e lo sapete, io sono il primo a essere contento, per questa rincorsa che stiamo facendo, e spero che questa rincorsa possa proseguire, ma attenzione, che quando la Juve non lotta, per lo scudetto in maniera seria, non compete seriamente per lo scudetto, non sono stagioni da Juventus, ha maggior ragione, se sei uscito dalla Champions, a ottobre, ricordatevele queste cose, perché io adesso vedo, troppa gioia, troppa felicità, come vedo troppa gioia, anche nei tifosi del Napoli, e ribadisco, fanno benissimo, però vedo già alcuni caroselli, vedo già alcuni striscioni, sui social appaiono, sento già alcuni tifosi napoletani, lo scudetto è già nostro, quindi, secondo me, si è perso un po' il confronto con la realtà, da tutte e due le parti, siamo a novembre, metà novembre, si ferma tutto per un mondiale, stravolgimento mai visto nella storia del calcio, un mondiale invernale, non abbiamo idea di cosa possa accadere, se i giocatori che non sono andati al mondiale, si deprimeranno in questo mese, se quelli che sono andati al mondiale, si galvanizzeranno, quindi sarà favorita la Juve, che ne ha mandati 11, sarà sfavorito il Napoli, che ne ha mandati 4, l'Inter e il Milan, ne ha mandati mi pare 6 o 7 a testa, quindi non si sa niente, noi possiamo stare qua a discutere, mi sembra, quando si è interrotto il campionato per il Covid, si è ricominciato a luglio, e si diceva, adesso chi è la favorita, o quando si giocava la Champions, Juve-Lione, è favorita la Juve che comunque le ha giocate, o il Lione che è stato fermo fino ad adesso, a livello fisico, perché sono cose inedite, non le abbiamo mai fatte, è tutto da sperimentare, quindi invito all'assoluta calma, 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 che la Juve non ha ancora fatto niente, il Napoli non ha ancora fatto niente, il Milan non ha ancora fatto niente, l'Inter non è vero che fuori dai giochi, la Roma e la Lazio non è vero che è, non è vero niente, siamo a 15 giornate di Serie A, e se volete, e secondo me questo è un contenuto interessante, vi porterò un resoconto, degli ultimi 10 anni in Serie A, alla quindicesima e all'ultima giornata, un confronto tra la quindicesima e l'ultima, per vedere chi era primo, chi c'è rimasto, chi era in corso, bene o male dovrebbe essere sempre la Juve, però secondo me non proprio sempre, e anche cercare di capire, le distanze che ci sono state, tra la prima, la seconda, la terza, alla quindicesima giornata, e quelle che sono diventate le distanze effettive all'ultima, perché le partite valgono sempre tre punti l'una, però attenzione che la Serie A non è come la Champions, che se sbagli la partita, te la vai a complicare, e quindi molto probabilmente poi vai ad uscire, a meno che tu non ti chiami Real Madrid, che le riesci a ribaltare tutte. Attenzione, perché sembra quasi che, non abbiamo mai visto una stagione sportiva, a livello calcistico, attenzione a tirare i giudizi definitivi adesso, non è morto nessuno, non ha vinto nessuno, tranne in Champions, dove noi siamo morti, sì, però non ha ancora vinto nessuno la Champions, e attenzione perché l'abbiamo visto, in sei giornate, una sorta di piccolo miracolo sportivo, può ribaltare le situazioni, aprire scenari, che nessuno poteva immaginare, nessuno. Grazie.